Ciao, se hai iniziato a collaborare con l'azienda di network marketing PM International e vuoi conoscere il piano marketing, sappi che io in questo video non ti parlerò del piano marketing. Lo sai perché? Perché non ci serve conoscerlo se vuoi iniziare a guadagnare bene con PM International e addirittura ti dirò che conoscerlo può ostacolare la tua crescita. E ora so che quello che sto dicendo può sembrare controintuitivo, però guarda l'intero video e guarda attentamente per capire bene il motivo di queste mie parole. Ti faccio subito una domanda, perché tu vuoi conoscere il piano compensi di PM International? Di certo non lo fai per, diciamo, per cultura generale, giusto? Vuoi conoscere il piano marketing perché ti interessa capire come guadagnare con PM International, ti interessa capire come farai i soldi. Il fatto però è che il piano marketing ti dice sì a quali condizioni verrai pagato, però non ti dice assolutamente nulla su come generare poi queste commissioni. Infatti ci sono networker che conoscono a malapena il piano marketing dell'azienda, ma hanno imparato anche solo le basi per generare clienti e collaboratori e quindi guadagnano. E poi ci sono quei networker che hanno imparato a memoria il piano compensi di PM International e non hanno mai visto un euro. E ora tu potresti dirmi che non è professionale e che è assurdo lavorare e non sapere come si viene pagati. Io invece dirò che trovo molto più assurdo pensare che imparando il piano marketing tu poi dopo possa magicamente appunto guadagnare soldi, perché questo ovviamente non è possibile, non è il piano marketing che te li farà guadagnare. Io non sto dicendo che tu non devi mai imparare il piano marketing, però sono sicuro al 90% che tu che stai guardando adesso questo video sei in attività da meno di un anno e possiamo dire che tu sei un networker neofita e so molto bene che cosa passa per la mente di un networker neofita. Ci sono passato io in prima persona nel 2010 e poi l'ho visto e rivisto centinaia di volte con i miei collaboratori e con i clienti networker che aiuto. Mi ricordo che io stesso i primi giorni, i primi giorni quando ero un neofita cercavo di conoscere alla perfezione questo benedetto piano marketing. Addirittura ti dirò che andavo io già a spiegarlo in giro pensando di poter iscrivere le persone solo perché avevo loro mostrato il piano marketing. Questo è un errore, questo è un gravissimo errore perché allora dovevo concentrarmi prima su quelle cose che potevano portarmi dei risultati concreti. Quindi il mio consiglio è smettere di focalizzarti sulle cose che hanno diciamo un'importanza secondaria. Soprattutto direi le prime settimane, soprattutto i primi mesi, quando non puoi elaborare troppe informazioni, ecco che allora devi essere selettivo al massimo. Quindi capisci come si fanno i clienti, capisci come si fanno i collaboratori, perché i soldi arriveranno poi dai volumi e non dalle tue conoscenze teoriche del piano marketing. Capisci cosa intendo? Una volta che ti arriveranno le commissioni, una volta che hai capito come si generano clienti e collaboratori, solo allora ti puoi studiare appunto meglio come vieni pagato. Bene, per te che sei rimasto fin qua, fino alla fine di questo video, ti ho preparato un videocorso gratuito che è formato da tre video in cui ti svelo quali sono i tre pilastri fondamentali sui quali dovresti basare il tuo business di network marketing se vuoi iniziare a vedere i primi risultati e poi far crescere la tua attività. Ti faccio vedere proprio un caso, un caso molto interessante di un mio cliente che era un perfetto neofita ed è riuscito a iscrivere nove persone durante i suoi primi due giorni lavorativi. L'ho fatto seguendo quattro semplici passi che mostro sempre nel videocorso e ti dico già che non aveva particolari competenze e non conosceva nemmeno il piano marketing. Quindi se vuoi cambiare completamente il corso del tuo business con l'azienda PM International, se vuoi essere fiero di quello che stai facendo, se vuoi finalmente camminare a testa alta, clicca sul link che trovi qui sotto nella descrizione a questo video e anche nel primo dei commenti. Noi ci vediamo dall'altra parte.